A partire dal prossimo 20 settembre, sull'A14 verranno avviati ben 10 nuovi cantieri e oltre 3 già in esecuzione. Questo è il quadro presentato durante l'incontro avvenuto tra Aspi, Regione Abruzzo e Sindaci, quindi riprenderà a pieno regime il piano di ammodernamento della rete avviato da Autostrade per l'Italia, tra la Val Vibrata e Pescara Sud, stoppato nel mese di luglio per agevolare gli spostamenti verso le località turistiche. Interventi che, come facilmente prevedibile, porteranno non pochi disagi agli automobilisti. La programmazione dei lavori per il prossimo trimestre, prevendo tre macrofasi, intervallate da sospensioni pianificate come avvenuto per la pausa estiva, legate alle festività calendarizzate fino a fine anno, in considerazione dei maggiori flussi previsti. In particolare verranno installate delle riduzioni di corsia per consentire la sostituzione delle barriere di sicurezza, in corrispondenza del viadotto Colonnella tra Val Vibrata e San Benedetto, in direzione Ancona, a partire da lunedì 20 settembre, del viadotto Vallelunga tra Pescara Ovest e Pescara Sud, in direzione Bari, da lunedì 4 ottobre, mentre sui viadotti Cerrano e Santa Maria le attività verranno condotte ottimizzando la cantierizzazione installata a partire dal 20 settembre per l'amodernamento del fornice sud della Galleria Solagne nel tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara Nord. Siamo consapevoli, dichiara al quotidiano Il Centro, il nuovo direttore del settimo tronco, Cristian Tucciarone, che con la ripresa del piano di lavori riprenderanno anche i disagi per gli utenti, però credo che con le strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili abbiamo individuato e portato al tavolo con le istituzioni del territorio la migliore pianificazione possibile. Abbiamo la necessità di riprendere il piano di ammodernamento delle gallerie che abbiamo interrotto prima dell'esodo estivo, anche se alcune lavorazioni sono state comunque portate avanti solo in orario notturno, con l'obiettivo di non impattare sugli spostamenti per le vacanze estive, restando però in linea con il cronoprogramma dei lavori.